Con la sfida interna contro il Gambatesa inizia il girone di ritorno della città di Sernia che prosegue il duelo a distanza con il Campobasso, Biancocelesti vogliosi di riprendere a macinare gol e vittoria dopo aver salutato il 2022 con la manita rifilata all'Olimpia agnonese, arbitra il signor Corbo della sezione di Termoli all'ottavo De Filippo, inizia a prendere le misure in piena area ma la sua girata termina tra le braccia di Sperling, di nuovo l'ex Termoli al quarto d'ora sull'invito di Cascio, si replica alla risposta del portiere ospite 29 il cross di Mingione, Cascio in qualche modo sul secondo palo, inefficace D'Ambrosio Neroverdi che si difendono in maniera composta, al 32esimo Negro chiede un rigore senza essere accontentato dopo il contatto con Mengoni, al 37esimo Ercolano riceve da Mingione, propone per De Filippo che non ci arriva sul secondo palo, al 45esimo punizione di De Filippo respinta della barriera in maniera del tutto regolare, a detta del direttore di gara, tre minuti di recupero, poi prolungato da Corbo, al 48esimo Mingione perfetto per Negro che sotto misura si divora clamorosamente il vantaggio, solo rinviato di due minuti, praticamente al 51esimo nel sesto minuto di extra time, il numero 9 approfitta di un errore difensivo e sblocca il risultato, 1-0 per Liserni all'intervallo, nella ripresa siamo al settimo, il gamba tesa con arrecchia, insidioso il suo tentativo con il pallone che si spegne sul fondo, all'ottavo sul fronte opposto, Cascio fa tutto da solo, va in percussione, il suo rasoterra, non muta però il parziale, al nono altro episodio dubbio che vede coinvolto Negro tra le maglie nero-verdi, dopo l'uscita di Sperling, al quarto d'ora discesa di Negro sulla sinistra di prima intenzione, Cascio sul velo di Ercolano, si coordina, con potenza e precisione, marca il raddoppio, al sedicesimo De Filippo vuole la gioia personale del gol, ma trova l'ennesima opposizione di Sperling, analogo film, tre minuti dopo, con il portiere ospite, sempre protagonista, minuto 23, riecco il gamba tesa con il neoentrato Fostinelli, Elisei allontana la minaccia, si giunge al quarantatresimo, punizione dalla distanza di Recchia, disimpegno con i pugni per il portiere marchigiano dei Pentri, all'ottantanovesimo è la doppietta di Negro che fissa il definitivo sul 3-0 per la quattordicesima vittoria in campionato dell'Isernia, prossima alla trasferta di Casteldisangro, gamba tesa rinfrancata dalla prestazione, così come era accaduto a Boiano nell'ultima d'andata, spera di invertire la rotta nella seconda parte della stagione.